Ciao a tutti anime colorate e benvenute in questo nuovo video Non so se lo serrò o meno Non vi mentirò, dipenderà tutto dalle visualizzazioni Sì, anche a me interessa le visualizzazioni Vi faccio tre proposte per la prossima settimana Uno, nuovi video Quindi vi torno a chiedere aiuto per nuovi video da fare Perché non ho idea A parte quella che mi dovrebbero tagliare la barba Ma questa è un'altra cosa Proposta numero due Domande per un video Ask In questo caso vi chiedo almeno cinque domande In totale Potete fare anche più di una domanda a persona Proposta numero tre Che nulla toglie Alla due Fare una nuova versione Dei lobombi Buu Questa Fare una nuova versione di lobombi o lopassi Che per chi non lo sapesse È un video Dove Si prende un gruppo di persone In questo caso uomini Per me perché io preferisco gli uomini E per ogni persona che mi avete segnalato Vi dirò Se lo bombo Quindi è abbastanza desiderabile Oppure lo passo Nel senso che non rientra Nei miei gusti Quindi Tre proposte Tre video Adesso mi dovete aiutare voi Sotto con i commenti Noi ci vediamo La settimana prossima Se tutto va bene Ciao Ciao